Vicenza Calcio. Cambia la panchina dell'Ane. I tre tonfi consecutivi sono costati il ruolo di allenatore al tecnico del Vicenza Calcio, Nicola Zanini. Al suo posto il curatore fallimentare ha richiamato Franco Lerda, che già oggi sarà al lavoro a Isola Vicentina per il consueto allenamento, in vista della partita a verità di sabato contro il Sant'Arcangelo Calcio. Un richiamo quello di Lerda, in quanto è a tutti gli effetti ancora dipendente del Vicenza, visto che il suo contratto scadrà a giugno 2018, praticamente a fine stagione. Si potrebbe dire una scelta obbligata per il curatore Nerio De Bortoli, i cui cordoni della borsa sono più che tirati. Mister Lerda sarà affiancato dal suo allenatore in seconda Giacomo Chini, mentre oltre a Zanini a lasciare il Lane e anche Gino Sterkele.